Buonasera Milano, video di oggi Crotone-Milan. Milan che affronta l'impegno con il consueto 4-2-3-1 facendo esordire Tonali a fianco di Chessy e utilizzando come al solito Ciaranoglu come rifinitore, questa volta alle spalle di Rebic. Crotone risponde con un 3-5-2 assolutamente di contenimento. Partita sempre nelle mani del Milan che va vicino al gol già al minuto 20 con un calcio d'angolo dove Chier è bravo a schiacciare di testa ma sfortunato in quanto colpisce la traversa. Una timida risposta del Crotone un minuto dopo con Junior Messias che dribbla che sì sfruttando la differenza di passo con il giocatore e calcio ad interno sinistro andando vicino alla traversa. Rebic si rende protagonista di una partita in colore però fa le cose che contano ovvero procurarsi un calcio di rigore sul finire del primo tempo azione che poi in realtà viene rivista perché c'è un sospetto controllo col braccio di Rebic mentre invece nessun dubbio sul fallo da rigore subito dal giocatore del Milan. Alla fine l'arbitro decide di assegnare quindi il calcio di rigore che si trasforma il calcio di rigore 1-0 per il Milan che chiude meritatamente in vantaggio il primo tempo. Nel secondo tempo il Milan continua a macinare gioco come il primo tempo e presto raddoppia con un'azione bella perché c'è un break alto di Cialanoglu che triangola con Sale Makers. Sulla chiusura del triangolo interviene in scivolata Cigarini ma la palla finisce Abraham Diaz molto bravo e veloce a girarsi in area piccola e a firmare appunto il 2-0. Dopo non succede molto altro perché al minuto 60 capita un episodio non bello con la lussazione al gomito per Rebic e l'unica cosa che capita ancora di interessante è dopo l'ingresso di Leao grazie alla voglia del giocatore di far gol un'occasione procurata da Leao in contropiede che prova a dribblare un paio di giocatori calciare in porta però poi viene contratto all'ultimo. Risultato giusto il Milan conquista una vittoria con tranquillità non rischia mai di pareggiare né di perdere questa partita secondo me e se devo indicare i migliori per quanto riguarda il Crotone come dicevo mi è piaciuto Junior Messias mentre invece Zanellato ha fornito una prova assolutamente insufficiente tant'è che è stato cambiato da stroppa alla fine del primo tempo. Per quanto riguarda il Milan buona prova di Calabria buona prova anche di Tonali all'esordio e direi che tutto sommato non ha giocato così male nessuno se non il già citato Rebic che però poi ha determinato il rigore che ha portato in vantaggio il Milan quindi tutto sommato essendo un attaccante ha procurato un calcio di rigore la sufficienza secondo me la prende anche Rebic. Nota di merito per Leao che entra con voglia. Domanda finale quindi questo Milan può fare a meno di Ibrahimovic oppure ha vinto semplicemente perché gli impegni non erano così proibitivi? rispondete qui sotto fatemi sapere cosa ne pensate iscrivetevi al canale qua dovrebbe apparire il logo per potersi iscrivere un saluto a tutti al prossimo video